Ciao a tutti, questa è la mia video recensione di Ubuntu 17.10. Questa distribuzione Linux verrà rilasciata il 19 ottobre, però è già possibile provarla e testarla. In breve è Ubuntu GNOME, il sistema operativo che già utilizzavo abitualmente, con lo stile di Ubuntu, quello classico che conosciamo tutti. Quindi andiamo a vedere le release note brevemente. Quindi Ubuntu 17.10, questo è Artful AdVark. E una cosa importante è quella che questa distribuzione sarà supportata fino a luglio 2018, quindi per nove mesi, e non si tratta di una long term support. Quindi dopo nove mesi siete costretti forzatamente ad aggiornare all'Ubuntu successiva. In alternativa, se volete un sistema operativo che cambia meno velocemente, c'è appunto Ubuntu 16.04 LTS, quella che uso io abitualmente, dove appunto ci sono solo gli aggiornamenti di sicurezza. E appunto da questa distribuzione qui non potete saltare direttamente alla 17.10, tuttavia potete appunto installarla. E questa distribuzione è cambiata molto, nel senso che ci sono stati ricambiamenti radicali, si è passati appunto da Unity, quindi l'ambiente grafico che utilizzava Ubuntu, a Gnome Shell, che è appunto quest'altro ambiente, che diciamo è leggermente diverso, però Canonical l'ha adattato un po' a quello che poteva sembrare il vecchio Unity. E quindi che dire, c'è diversi pacchetti che sono aggiornati, il kernel, si utilizza appunto Gnome al posto di Unity, e in teoria dovrebbe essere di default l'ambiente grafico Wayland, ho fatto anche un video a riguardo. Tuttavia, da quello che ho visto fino adesso, è ancora Xorg, l'ambiente grafico di default, quindi non so se questa cosa verrà effettivamente applicata. Quindi si basa su Gnome 3.26, e c'è ancora questa app di Amazon, che era abbastanza inquietante, perché tutte le volte che tu digitavi qualcosa su Ubuntu, si collegava a un server di Amazon, adesso c'è ancora il link, però in realtà si apre solamente il link di Amazon nel browser, quindi nulla di così strano. C'è il LibreOffice, il calendario, tutte applicazioni che siamo abituati ad usare, e niente, vi faccio vedere le cose invece un po' più particolari. Allora, inizio subito dallo stile nativo delle finestre, e quello di Grom, però appunto i tastini sono fatti diversamente nel tema, e quello che mi ha colpito e che mi piace molto è il nuovo ambiente appunto per configurare il sistema, che è questo, questo qui appunto sono le informazioni di sistema, e c'è questo menu laterale, che sostanzialmente vi fa diciamo muovervi all'interno delle impostazioni del vostro sistema operativo molto agevolmente. E appunto a differenza di Ubuntu Gnom, quello che utilizzavo io, qui abbiamo la possibilità di configurare la dock direttamente dal pannello di controllo, appunto di configurazione, quindi cambiare la posizione, eccetera. Devo dire che questa configurazione è molto pulita, mi piace molto, e l'altra cosa che vi volevo far vedere era la gestione delle finestre multiple, quindi premendo il tasto di Windows o Super entriamo in questo menu dove possiamo digitare qualcosa e ci vengono consigliate appunto le applicazioni. Quello che vi voglio far vedere è che se abbiamo finestre multiple dello stesso tipo, abbiamo la possibilità di passare da una all'altra semplicemente cliccando sull'icona e quindi aprire una o aprire l'altra. E questo può essere utile in alcuni casi, in alternativa sempre premendo il tasto Super abbiamo la visuale, quella con tutte le finestre aperte, possiamo chiuderle, possiamo andare sulla finestra. Trovo che sia, diciamo, un po' più pulita anche questo tipo di gestione. Altre cose che mi riguardano e che mi sono piaciute, finalmente sono gestite adeguatamente le cuffiette Bluetooth, perlomeno le mie. Prima mi andavano a volte in modalità stereo, a volte in modalità mono, adesso le mie cuffiette Bluetooth vanno sempre in modalità stereo, quindi AD2P, e funzionano correttamente. Cos'altro dire? Quello che ho notato è che i pacchetti Ubuntu Universe non sono abilitati di default. Tra l'altro anche qui software non è più quello di Canonical, è proprio quello di Grom, il software center di Grom, e quello che vi voglio dire è che comunque ho dovuto abilitare a mano i repository Ubuntu Universe, questi qua, altrimenti alcune applicazioni non erano disponibili. Per esempio, il software che sto usando adesso per registrare lo schermo, lo schermo si trova in Ubuntu Universe e non abilitando questo tipo di repository non troveremo tra i software disponibili Simple Screen Recorder, che è questo qua. direi che come recensione di Ubuntu ho detto quello che volevo dire, personalmente non so ancora se passerò alla 1710, perché comunque con la 1604 LTS mi va più che bene. Sicuramente se dovessi installare adesso un sistema operativo Linux, sceglierei questa Ubuntu 1710, perché l'ho trovata molto stabile e molto ben fatta. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace oppure commenti su questo tipo di sistema operativo se vi piace. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao!